Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare il gioco di ruolo Cane nella Vigna, edizione italiana a cura dell'editore Narrativa, che potete raggiungere sul sito www.narrativa.it, ma tanto poi ve lo dirò anche alla fine, tutto quanto trovate nel primo link in descrizione. E voglio ringraziare ovviamente l'editore Narrativa per avermi offerto tutta quanta questa roba, che ora vi farò vedere, e soprattutto, la cosa più importante come dico sempre, appunto avermi dato fiducia, quindi grazie di cuore, è un onore avere la possibilità di iniziare questa collaborazione con voi, spero che possa durare e come sempre, come vedete anche per mail, a totale disposizione. Vi parlo un po' di questo gioco di ruolo, piccolino, poi vi faccio vedere in maniera di tutto quanto, dopo la sigla. Allora, leggendo quello che c'è scritto dietro, è stato un best-seller, e quello che c'è qui davanti è la seconda edizione, che è una ristampa del 2016, ed ha vinto l'India RPG Award del 2004 addirittura, e è stato nominato per il Best of the Best del Lucca del 2007, anche perché la prima edizione che vedo qua su di Vincent Baker è uscita nel 2004. Quindi è un gioco che c'ha un pochino d'anni e una bella storia sulle spalle. Ora, devo fare una piccola premessa a questo gioco, che ha un sistema di regole molto ben studiato, ma particolarmente alternativo, infatti mi sono voluto anche di fare qualche domanda all'editore stesso con cui mi sono sentito via mail, per avere anche gli chiarimenti, e in più sul gruppo italiano di Facebook, che saluto e ringrazio, di Giochi di Ruolo, ho chiesto qualche chiarimento, perché è un sistema un po' particolare, che sinceramente non avevo mai vissuto, per quanto è quasi 20 anni che faccio il Dungeon Master. Mi ricordo qualche tempo fa, nemmeno tanto, che parlando con un ragazzo gli ho detto, a me piace avere un gioco da tavolo per genere, e anche un gioco di ruolo per genere, e pensavo, quello c'ho tutto, horror, fantasy, spaziali, qualsiasi tipo di genere ce l'ho, qualcosa ambientato nel West mi mancava, però in un West reale, credibile, perché io l'ho sempre detto, non ho molto amore per il West fantasy, tipo, per farvi un esempio, Deadlands, che Deadlands è un gioco dei più belli che abbiamo approvato in vita mia, però vampiri, fantasmi, licantropi e sceriffi che sparano e di là lanciano fulmini, un migarba, tantomeno lo steampunk. E questo Cani nella Vigna non è ambientato nel vero West, però ovviamente si rifà al West di quei tempi là giù, si parte dalla metà del 1800 fino ai primi del 900, è un'ambientazione molto credibile che si rifà appunto al reale West. In questo gioco, perché? Prima di tutto esaminiamo anche il titolo, perché si chiama Cani nella Vigna? I cani in questo gioco siete voi, che non è un titolo dispreciativo, anzi tutt'altro, e la Vigna è la Vigna del Signore, è il campo del Signore, è il campo di Dio, quindi un po' i cani nella Vigna è un po' come dire i portavoce, oppure la parola del Signore portata appunto nella Vigna del Signore, nel mondo, nel creato. E la vostra missione principale in questo gioco, potrete essere anche lì pistoleri, potete crearvi un background che magari siete degli ex criminali ricercati dello Stato, tutto quello che volete, ma la vostra missione è che appunto come cani siete i portatori della parola del Signore e siete quelli che devono entrare nelle città per risolvere i problemi di quelle città ovviamente soprattutto, o nel 99% dei casi, problemi spirituali e soprattutto dovete portare la parola del Signore che viene citato come Dio soltanto in uno o due casi comunque lo chiamano il Creatore, lo chiamano l'unico Dio, lo chiamano in tanti modi però ovviamente anche la religione si rifà alla nostra vera religione, al cristianesimo ma comunque non è quella reale e voi siete addestrati, seguiti un profilo di addestramento fino dalla tenere età, che vi insegnano a cavalcare vi insegnano anche la dottrina vi insegnano la caccia vi insegnano anche ad esempio ad usare un'arma da fuoco perché poi nel West chi non sapeva usare un'arma da fuoco insomma, era un po' carino a macello vi insegnano tutte le cose che c'è da fare per renderti autosufficiente e indispensabile in questo mondo ti dovrai portare la pace, la tranquillità e soprattutto la parola del Signore laddove ce ne sei bisogno e non siete inquisitori questo è il manuale, ce lo fa presente e dove c'è bisogno della parola del Signore in cui magari villaggi di frontiera dove magari lo sceriffo è un corrotto per farvi un esempio oppure magari soprattutto dove si vanno a citare, venerare e farsi culti magari idolatri del demonio o perché no, anche di culti pagani, nefasti e cose del genere voi siete lì per andare a riportare la parola del Signore però non siete Call of Juarez il prete, quello con le due pistole che entra e ammazza tutti voi dovete portare la parola del Signore e risolvere i problemi i problemi grossi come ad esempio fermare e distruggere una setta e magari scacciare dei demoni demoni ragazzi è un gioco reale, non c'è magia, non c'è niente però il demone, l'esorcismo è quello di cercare di elevare il male da una persona quindi per quanto si fa spesso riferimento alla battaglia dei cani e della religione contro i demoni appunto negli esorcismi non vuol dire andare a combattere contro un demone a tre metri con una clava che vi picchia o con una spada infocata no, però comunque cercare di liberare il corpo e soprattutto lo spirito della persona e queste sono le missioni sicuramente quelle dal più alto potenziale ma poi vi dovete anche andare a addentrare nella vita di tutti i giorni di quelle città che andrete più che altro città di frontiera paesaggi, villaggi di frontiera che andrete ad aiutare anche servendo messa ad esempio cercando di risolvere anche i conflitti che si possano andare a trovare perché il peccato è anche una donna sposata che va a letto con un altro uomo che non sia il marito il peccato è una donna sposata e un uomo sposato di ovviamente sposati con altrettanti partner quindi famiglie separate che di nascosto la notte si trovano e magari per avere un rapporto e quindi quello è un altro peccato perché non vanno da neppere ai comandamenti ai precetti della famiglia e alle impegni della famiglia giurati poi davanti a un prete a un'autorità del signore che comunque li ha uniti in matrimonio quindi sono cose importanti tutto è visto come anche una donna nubile ad esempio che non è sposata e va a letto con più uomini gli dice non ho problemi, non sono sposate e tutto però è visto male come era poi alla fin fine nell'Oest e quindi ci sono anche queste questioni da risolvere non soltanto sparare, anzi sparare è l'ultima delle cose fatte in queste introduzioni qui ovviamente nel corso del video vi faccio vedere un po' di immagini e tutto quanto qui accanto ci sono altri giochi sempre dell'editore narrativa che vi farò vedere prossimamente che sono Fantasmi e Assassini che è praticamente un fillerino e piccolo come gioco e si gioca in due tra l'altro è un gioco di ruolo dove c'è tipo un investigatore o comunque un personaggio principale e il Dungeon Master che guida comunque fa il fantasma e crea tutta quanta la storia Flotsam che è un gioco di ruolo questo gioco e questo qua sono masterless non hanno bisogno di master sono i giocatori che narrano la storia fra di loro mentre invece questo di Fantasmi e Cali nella Vigna è più classico dove c'è bisogno di un Dungeon Master che porta avanti la storia comunque qui siete su una stazione orbitale un po' come la fascia Ceres perché ha visto la mia serie preferita tra l'altro The Expanse e dovrete vivere nei soborghi come tipo Eriate e cose del genere la vita nella stazione e poi c'è Lovecraft Esk infatti non vedo l'ora di portarlo sul canale perché poi Lovecraft e Cthulhu io sono fanatico in una maniera disumana insieme c'era anche la torcetta Luminol che serve per illuminare pagine e disegni sul manuale e vederci cose nascoste che è una trovata disumanamente bella ma queste cose poi ve le faccio vedere prossimamente ragazzi c'è da fare poco di unboxing è un manualetto piccolo di tra l'altro meno di 200 pagine quindi comunque ve lo faccio vedere da vicino il manuale vedete c'è è veramente piccolissimo seconda edizione edizione narrativa Cani nella Vigna un gioco di Vincent Baker già la colorazione e tutto quanto mi piace parecchio molto digitale bello si vede il classico pistolero con voi il cane il pastore praticamente con il libro del signore in mano e vedete da una parte una pistola un revolver perché è come farvi capire che dove non arriva la legge del signore ci arriva la legge del colonnello Colt e poi il vestito la giacca che vedete addosso è una giacca che vi viene data quando praticamente diventerete dei cani quindi quando uscirete da queste chiese dove praticamente vi fanno un addestramento appunto per diventare la parola e la mano armata del signore e vi verrà affidato tra l'altro cuscito dalla famiglia o cuscito da un superiore o cuscito da una persona amata questo vestito che ovunque andrete vi identificherà appunto come un cane e la gente di solito rispetta molto queste figure devo dire la verità lo stile del disegno è bello non mi fa impazzire però perché l'ambientazione è molto cruda molto molto è veramente il vest ancora più darcheggiante e oscuro di quello che già veramente era dove da un momento all'altro ti sparavano e ti ammazzavano però io avrei fatto disegni un pochino più forse un pochino più scuri cattivi famelici anche malvagi sì ci sono degli impiccati dietro però insomma diciamo un pochino più fumettoso ecco lo stile di disegno ora non vi sto a far vedere tutto il manuale perché immagini non ce n'è tantissime più che altro c'è tanto 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 testo veramente da leggere e vi faccio vedere un pochino girando le pagine vedete ci sono più che altro un pochino di disegni a pie pagina qua giù in fondo e poi un po' di disegni anche a volte se ne trovano qui praticamente fa vedere qualcuno che si sta prendendo cura della sua arma vedete c'è di scritto e da leggere c'è veramente tantissimo però è giusto hanno fatto bene perché le cose vengono spiegate molto bene e a volte riprese anche guardate bello questo disegno tipo una ragazza col vestito addosso dei cani vedete dei cani nella vigna che si nasconde da un pistolero o qualcosa o un brigante che la sta cercando e vedete che si sta anche mettendo paura perché vi dovete ricordare voi create il pg che vi pare potete essere anche Clint Eastwood potete essere Doc Collide con la mira infallibile quello che vi pare però ricordatevi che di base per l'addestramento che avete avuto voi siete preti siete pastori dovete portare la parola del signore e quando serve dovete anche sparare perché no anche uccidere ne avete l'autorità però ricordatevi non siete lo sceriffo del paese siete quello che celebra messa quello che risolve problemi quello che magari è lì per portare la parola del signore o esorcizzare qualcuno quindi non siete Billy the Kid è normale anche insomma avere un po' di paura in queste situazioni diamo qui altri disegni ve ne faccio vedere un po' questo è veramente bello una sparatoria con un bel fucilone un bel bocca nera quindi vedete siete anche portati a sparare e alle cose di combattimento però soprattutto siete dei preti siete appunto la parola del signore e qua giù c'è la scheda del giocatore che come vedete è facilissima scheda del personaggio il nome le caratteristiche che sono acutezza cuore corpo e volontà i tiri sulle caratteristiche sono sempre due caratteristiche ad esempio per un combattimento il più classico con l'arma da fuoco si va su acutezza e volontà quindi dovete vedere il valore che avete su acutezza il valore che avete su volontà e tirate quei dadi poi ci sono le relazioni che potete avere con altri personaggi giocanti o png le proprietà ovviamente del personaggio armi il giubbotto il cavallo insomma tutto quello che avete dietro e di qua le schede per creare i personaggi non giocanti cani nella vigna usa 16 miliardi di dadi il più classico è il dado da 6 poi usa anche il dado da 4 poi usa anche il dado da 8 e poi usa anche il dado da 10 questi sono i dadi che si usano nella maggior parte dei casi però i dadi principali sono i dadi da 6 mettiamola così la maggior parte delle volte che si va a fare una prova ecco il dado da 6 per quanto voi in creazione del personaggio l'avete visto ve l'ho fatto vedere sulla scheda nelle caratteristiche dovete andare a metterci dei dadi che ci avete alla creazione magari vi dice per le caratteristiche ci avete 12 di 6 questi di 6 te te le dividi come ti pare dovete metterne almeno 2 per caratteristica almeno sotto no e poi ve le potete giocare come vi pare quindi magari potrei mettere sempre per una sparatoria potrei mettere acutezza 3 dadi e volontà 3 dadi così a quel punto quando dovrò fare una prova di sparare andrò a tirare 6 dadi poi vi dovete creare dei tratti e i tratti devono essere descrittivi il tratto non deve essere semplicemente pistolero per farvi capire che sapete combattere il tratto deve essere un pochino più descrittivo deve essere tipo tiratore non dire pistolero che sa usare tutte le armi ma magari tiratore scelto con armi a media e lunga distanza cecchino nato deve essere più una frase che non una parola perché il tratto va tirato nella situazione quando c'è la posta giusta perché io se ti dico in una sparatoria all'Ok Corral dove quando suona il gong dell'orologio dovete estrarre e sparare te non hai abilità in quella cosa lì perché il tuo personaggio non la sa fare perché il tuo personaggio se c'è da sparare a un dingo che sta scappando o anche a un criminale a 300 metri di distanza con un fucile da cecchino lo colpisce allora lì sì ma in una sparatoria uno contro uno non lo saprebbe fare quindi non basta dire pistolero so fare tutto io tutte le volte che c'è da sparare sono il primo no dovete andare a descrivere particolarmente quello che sapete fare e questa è una cosa bellissima in più dovete mettere i dadi alle relazioni perché anche potete scegliere di avere una relazione con degli NPC relazioni sia di amore che di odio se è chiaro tutto quanto o una relazione con un altro giocatore e i dadi vanno a salire ragazzi vanno a dirvelo un d4 vuol dire che è una cosa un po' carente un d6 che è una cosa normale un d8 invece che è una relazione molto forte e il 10 è il massimo del massimo amore odio puro quindi quando si andrà a fare queste prove dovete ricordarvi anche che se la posta in gioco è una vostra relazione quindi la vostra amata il vostro amato o il vostro arci nemico dovete tirare anche i dadi della relazione appunto quando si va a fare una prova in questo gioco e qui arriva il primo problema facciamo conto che noi abbiamo 5 dadi ad acutezza e 5 dadi a volontà e in quella prova lì la posta in gioco è salvare la donzella vi faccio l'esempio c'è un criminale che vuole uccidere la donzella e ci siamo noi come cane nella vigna che la vogliamo difendere la posta in gioco va decisa game master giocatore e dall'inpo iniziare a mettere i dadi in campo perché se la posta in gioco è una sfida fra dei due cioè fra voi e il criminale la posta quale sarà mai? salvarsi la pellaccia vincere ma se la posta in gioco è il criminale che vuole uccidere la gentile donzella la posta in gioco nel caso verrà fallita la prova non sarà che il criminale spara a voi e vi uccide ma sarà che il criminale spara la donzella la ammazza e voi non siete riusciti a salvarla e qui entra il problema perché se voi avete cinque dadi ad acutezza da sei ed eccoli qua e poi magari avete cinque dadi a volontà ed eccoli di qua il gioco funziona che voi questi dadi facciamo conto che l'ho già tirati questa è la vostra mano è come una partita a poker e dall'altro lato ci sarà il giocatore bandito appunto che ha tirato i suoi dadi facciamo conto di dividerli così questi sono i vostri dadi e questi sono quelli del bandito per la prova con la posta in gioco che è la vita della ragazza ora il bandito è quello che vuole sparare e voi dovete magari disarmarlo ucciderlo prima quindi il bandito prende i suoi dadi e decide quali mettere in campo dovete sempre metterli due a due quindi il bandito potrebbe dire che ne so io per i primi dadi che ho voglio andare basso e metto un due e un tre quindi il bandito ha usato cinque voi potete vedere o potete lasciar stare come nel poker se lasciate stare la prova è fallita il bandito ha ucciso la ragazza la posta era quella lì se no ovviamente è andata avanti e lui dice ok sfodero la pistola per sparare alla ragazza voi dovete ribattere perché dovete descrivere un gioco narrativo alla vostra azione e magari potreste dire ok anch'io sfodero la pistola per minacciare il nemico e fargli capire che lui non deve sparare alla ragazza dovete eguagliare il valore che ha fatto o superarlo quindi io potrei dire ci metto quanto ha fatto cinque ci metto o un due un quattro che ho fatto sei quindi ho eguagliato e ho superato quindi la prova continua ad andare avanti con i rilanci o una cosa veramente bella se ci avete dovete mettere sempre due dadi se riuscite a metterne uno soltanto che eguaglia o supera quindi lui ce ne ha messi due e voi soltanto uno praticamente gli rigirate l'azione contro che potrebbe essere una cosa verbale che ne so riuscite a farlo cagare addosso con la vostra furia quindi lui si calma e un attimino gli tentenna la mano o anche semplicemente perché no magari riuscite a estrarre la pistola prima di lui puntagliela in testa e cercare di vedere cosa fa quindi nel caso di un dado gliela ritroccete contro ma mettiamo che non è il caso siamo andato avanti quindi ho visto perché ce l'ho fatta lui magari dice ok per quanto abbiamo tutti e due estratto la pistola lui continua a voler sparare alla ragazza quindi questa volta dice io sta ragazza la voglio ammazzare e ci mette due sei che ha fatto un dodici è veramente tanta roba allora io dico ora io un dodici come lo vado a vedere perché io ho due cinque visto che i dadi si mettono singoli o due due cinque che fa dieci ma lui c'ha dodici e ha vinto quindi a questo punto lui spara alla ragazza che io non ce la faccio si abbandona e non vedo lui spara alla ragazza allora potrei dire sai che c'è ce ne metto tre potete metterne anche quattro di dadi se ce l'avete uno gliela ritorcete contro due vedete tre o più succedono degli imprevisti cosa vuol dire vi prendete dei fallout io dico i due non mi bastano quindi ci metto un cinque quindi questi tre dadi qui mi sono bastati per vedere ancora una volta ok però mi prendo tre fallout perché ho messo tre dadi in gioco quando mettete più di due dadi in gioco automaticamente si trasformano in fallout e le dovete togliere perché anche per ricordarvelo che sono questi tre dadi qui e poi il nemico avrebbe un altro dado da mettere in gioco nel caso per continuare l'azione e voi a quel punto lì non avete più niente per vedere e quindi l'azione comunque passerebbe ma mettiamo caso che l'azione è finita e subentra il discorso dei tre dadi del fallout il nemico ha questi tre dadi che sono passati e a questo punto qui si va a vedere i dadi dell'arma i dadi dell'arma della pistola ad esempio una pistola ha come valore un D10 potrebbe avere un D4 se è una pistola scadente che fa schifo però mettiamo caso che la pistola come valore ha un D10 quindi i dadi che mi sono preso del fallout quanti sono? come vedete sono tre quindi visto che la pistola come valore ha il D10 io devo prendere tre dadi da 10 per il fallout e tirarli quindi tiro il primo per farvi vedere dovrei averne tre perché se no vi dovete tenere tutti i numeri a mente ho fatto il primo un 1 il secondo è un 8 e il terzo è un 10 io devo prendere due valori e sommarli posso tirare anche i 10.000 dadi di fallout devo prendere sempre i due più alti i due più alti sono il 10 e l'8 con un valore di 18 è una ferita critica quasi mortale quindi visto che la posta in gioco era la ragazza l'azione come va a finire che io ho cercato di fermarlo ho cercato di intimorirlo ma non ce l'ho fatta quindi il criminale ha estratto la pistola ha sparato magari il colpo mi è passato a me sopra la spalla non mi ha preso però ha colpito la ragazza dietro al petto che casca per terra e sta morendo dissanguata ragazzi ci sarebbero altri 10 miliardi di cose da dire però il gioco bene o male sempre che io anche l'abbia capita a dovere nel caso fatemi notare gli errori sotto nei commenti il regolamento gira più o meno così e non è dei più semplici però secondo me basta alla fine farsi qualche partita e tenta veramente in testa l'unico problema armatevi di un casino di dadi perché vi serviranno almeno 10 se non 12 dadi per tipo quindi un po' di dadi in casa ce li dovete avere uno soltanto due ragazzi non bastano in conclusione è un gioco secondo me spettacolare infatti tanti ragazzi mi hanno detto non stare a cercare troppi giochi perché poi anche GURPS ha la sua variante ovviamente western Cypher System te la puoi creare in casa oppure mi viene in mente Deadlands Boot Hill e tanti altri giochi anche un po' più vecchi però mi hanno detto cerchi un gioco western il più bello che puoi trovare cani nella vigna e ho detto ma per da poi l'ho visto piccolino ho detto ma sto manualetto qui è addirittura il gioco di ruolo più bello è una figata disumale e ci avevo una ragione però commento mio ragazzi personale molto privato e anche abbastanza riflessivo perché poi alla fin fine io ve l'ho detto è una vita che giochi giochi di ruolo l'ho fatto al dungeon master partendo dal Giza passando da martelli da guerra arrivando fino all'ultima edizione di D&D quindi l'ho girato tutti i giochi di ruolo però questo regolamento questo tipo di gioco qui cerca da una parte di facilitare e da una parte secondo me facilita e ci riesce e da una parte però un pochino alza la difficoltà perché è un gioco che punta tutto sulla narrativa sulla narrazione quindi cerchiamo di tirare i meno dadi possibili e ora questo è il punto negativo dopo meno dadi possibili perché buttiamo tutto sulla narrazione quindi se io sono col tuo personaggio io voglio aggredirlo verbalmente per avere ragione quindi per avere un successo nella discussione nei suoi confronti oppure anche semplicemente assoggettarlo alla mia volontà se io provo ad alzare la voce con te e farti capire che hai sbagliato e ti di là accetti e stai zitto non c'è da fare nessuna prova perché anche se si mette una posta in gioco che la posta potrebbe essere vediamo che hai ragione su questo argomento te stai zitto non vuoi ricontrobattere e finisci lì ma se ti mi vuoi controbattere a quel punto lì entra come vi ho descritto la posta in gioco e a quel punto bisogna giocarsela con i dadi quindi il gioco stesso ti dice non tirate i dadi per qualsiasi cosa ora se c'è da fare una prova facile voglio scalare un metro dove ci sono 27 appigli non fare una prova però voglio scalare una una collina impervia senza attrezzatura di scalate e cose del genere giustamente di fare i tiri per una sparatoria o anche per cercare di avere ragione e difendersi in tribunale da delle accuse quindi comunque cercate di tirare i dadi solo nelle prove dove veramente non si può andare avanti se non lo decide un dado il tiro e quindi questo da una parte facilita perché ti dice buttalo più sulla narrazione giocate narrate tutto insieme anche perché è un gioco che si avvicina al masterless perché il master cioè tante volte la storia la narrano i giocatori perché il master vi da l'ambientazione principale però poi sono i giocatori che la vanno ad arricchire e il vero dungeon master deve vedere quello che fanno i giocatori e creargli un mondo giusto e coerente intorno perché se i vostri giocatori pigliano la strada che i daccani della vigna vogliono essere invece che dare messa e benedizioni e scacciare demoni vogliono essere delle specie di riappacificatori o anche dei regolatori come la squadra famosa di Billy the Kid vogliono andare a giro a provare a scacciare il male che ci può essere in un posto e la gente non li ascolta e loro ti sparano in testa lo potete fare se volete farlo diventare una sfida all'Ok Corral non è l'intento del manuale però voi siete giocatori divertitevi insomma questo è soltanto un mezzo per narrarvi la storia è inutile che il dungeon master cerchi di spingere spingere per farvi cambiare farvi diventare dei preti farvi andare lì a dam messe sposare la gente se i giocatori non lo vogliono fare cerca di creargli una storia che li faccia divertire perché se no dopo due sessioni avete chiuso e quello siamo d'accordo per quanto il gioco è sulla corta distanza questo non è un gioco fatto né per gruppi troppo grandi né per partite troppo lunghe quindi è un gioco da 2 a 4 giocatori già 7-8 siete troppi e non è nemmeno un gioco da 18 avventure per fare una campagna dopo 5-6 avventure è bene chiudere la storia perché poi anche e soprattutto la morte è dietro l'angolo e questa è la parte facile la parte invece più difficile ma scusate cioè ora uno che può avere tanti giochi da tavolo oppure anche uno che gioca sempre di ruolo può avere in casa 4 di 20 vi faccio un esempio 3-4 di 4 5-6 di 8 dadi da 6 vabbè si trovano dentro qualsiasi gioco ma qui c'è troppi dadi ragazzi si finisce davvero nel tavolo per tirare 20 dadi perché magari per fare una prova c'hai 12 di 6 8 di 4 cioè un 6 più di un tutto attivo tira poi aspetta soprattutto per visto che le meccaniche sono tipo il poker per spostarla apposta magari l'altro giocatore tirano 10 dadi te ne tiri 8 poi praticamente lui ti mette accanto due dadi più arti col valore e te guardi la posta come nel poker e sposti gli altri per eguagliare o superare cioè c'è un casino di dadi che mi si brucia il cervello io l'avrei fatto sì un sistema del genere però avrei di molto abbassato i dadi cioè avrei abbassato le caratteristiche che li puoi affidare uno o due dadi al massimo o magari uno soltanto vi dico la verità quindi se gli assegni il D4 la caratteristica fa cagare detto sinceramente se gli assegni il D10 sei un grande la caratteristica è potentissima hanno voluto da una parte hanno facilitato da una parte c'è troppi dadi cioè il gioco è veramente spettacolare però consiglio mio spensierato lo farò anche come Dungeon Master cercate di buttarlo più sulla narrativa e meno se ti ride di dadi perché veramente ce n'è uno sbotto quindi se devo dare un voto a cani nella vigna assolutamente le do un 8 su 10 meritatissimo perché per me è un gioco unico che vi farà amare il West questo è proprio il gioco per tutti gli amanti di Western però vi dico la verità gli avrei dato volentieri anche un 9 9 e mezzo quasi sfiorare alla perfezione perché mi gaze non voglio giocarlo però ci sono troppi dadi da attirare troppe cose da tenere a mente e vi dico la verità mi è toccato leggere il manuale mi è toccato con molto piacere e volentieri però ho dovuto leggere il regolamento tre volte rileggerlo tre volte più andare a chiedere agli stessi loro di narrativa che ovviamente ringrazio ma hanno dato richiarimenti più su un gruppo di giochi di ruolo per chi ci aveva già giocato prima di me perché e anche chi mi ha risposto mi ha risposto bene però aveva sbagliato una regola e c'è stato un terzo che è arrivato a corretto sia a me che la persona che voleva darmi informazioni quindi un po' complesso ecco come gioco non è sicuramente dei più facili e un game master alle prime armi ci impazzisce quindi questo è per gruppi veramente coesi che ne fanno veramente tanto della narrativa della narrazione e soprattutto a creare una vera e propria storia perché qui il primo pagliaccio che vi viene in gioco è caduto e vi fa un pochino da burlone nell'avventura si prende ansia di esse billy the kid e spara a tutti vi ha rovinato la partita stessa cosa un dungeon master non particolarmente preparato quindi primo link in descrizione da dove ordinarlo io ringrazio ancora una volta la narrativa per avermi offerto una copia per la recensione tutti quanti i nostri social a seguire fatemi sapere cosa ne pensate con un commento ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti